Buongiorno a tutti, eccoci qua. Dovinate cosa stiamo facendo? Siamo tutti qui riuniti aspettando un po'. Ecco, l'hanno detto loro. E non lo sappiamo, non lo sappiamo se viene al giro. E non lo sappiamo, cinque sfigati. E' da un'ora che lo aspettiamo, sto cristiano. Esatto, non solo metto un'ora a me. Come potete vedere, questo è il gruppo, è un pezzo del gruppo che partirà per le langhe. Abbiamo qua Stefano. Zona del Barolo. Zona del Barolo. E ho detto tutto. Che non è chinato, ma nel caso di Pepalo sarà Barolo piegato. Piegato. Abbiamo Paola. Ciao. Qua c'è Greta. Ciao ciao. Maurizio. Per meglio. Ciao ciao. E poi, ci sono io. Chi è che manca? Tronchin. Scommetto che manca Andrea Tronchin. Tra. Eh? No, dai, non manca lui. Sento una moto. Eccolo lì. E' lui! E' lui! E' lui! Cazzo, se è lui! Ce l'abbiamo fatta! Vai Andrea. Eccolo qua. E' arrivato. Come un fulmine al sen sereno. In orario! In orario! Sì, sì. Proprio in pieno orario. Ciao, io sono Luca. Piacere, Mattia. Allora? Grande cazzo. Allora, grande. Bravo, Andre. Eccolo l'ho avaltato per terra lì. E' Savoldelli. Sì, è Savoldelli. E' venuto qua con il camion. Bene. Buota. Partiamo. Bene. Eccoci qua. Siamo arrivati all'osteria. Il Galletto. Qua c'è la Franci. Osteria è la sua. Galletto! Galletto. Spero. Mattia. Grazie. Ciao Francesca. Ciao. Francesca è stato ancora. Che bella. Qua vediamo la belva della Franci. Va che belva. Vai Franci. Che spettacolo. Come soddisfatta. Molto soddisfatta. Vai. Hai visto le risaie? Visto le belle risaie. Noi avevamo messo giù un giro un po' più lungo perché siccome... Però quando siamo arrivati lì ho detto fammi rimettere un attimino a posto perché non vorrei che poi ci mettiamo troppo tempo. Bene bene. Siamo arrivati. Vabbè. E' già faccio queste curve o no? Eccoci qua Andrea che vuole andare a fare le curve. Le curve sotto l'albero. Vediamo un po' Mattia. Le curve sotto l'albero. Paola che sbadiglia. Lei vuole fare le curve. Lui è concentrato perché sta chiamando il taxi. Non per tanto. Maurizio che fa le telefonate. Greta concentrata al telefono. Francesca gli si brucia la gamba. Diventa rossa. Diventa rossa. Mannaggia. Non ho capito che non si con la maglietta. Sì veramente siete stati da... 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 Da standing ovation. Eh è vero perché... Così... Io ho pensato alla maglietta del bianco. Ma più fresca possibile. Sono stato un po' deluso... Ciao ciao. Non ha neanche la maglietta della Ducati. Sì ha la maglietta degli zarri. Ma Maurizio si gratta la testa. Così di natura. Siamo fermati in una trattoria di anziani. Ci becca un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proprio in quello lì. Mattia, non è che ti stavi addormentando, perché ho visto il papà che chiudeva gli occhi. Ho visto il papà che chiudeva gli occhi e ho detto, ma speriamo che non si addormenta anche Mattia, se no in due. Bene, fate un saluto qua. Ciao! Vedo la Francesca che smanetta. Ciao ciao! E' andata via due o tre volte. Figa che vi... Iniziava a dondeggiare e dico, ma cosa... Sì, ma perché non sembrava, ma era umido a terra. Si vede che ha piovuto prima. E' andata via due o tre volte. Allora... 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Bene, a tutti. 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 si. a tutti. 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 a tutti. a tutti. 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 tutti.